Nuovo gruppo fra i banchi dell'opposizione a Ponte Cagnano-Faiano. Dall'unione fra città attive Forza Italia nasce infatti Moderati Forza Italia. Il gruppo comprende i consiglieri Francesco Pastore, che sarà anche il capogruppo, Gianfranco Ferro e Arturo Giglio. Tre i concetti chiave del nuovo sodalizio, semplificazione, chiarezza politica e sviluppo della città. Il gruppo consigliare, spiegano i tre fondatori, è la sintesi perfetta del nuovo inizio che ha contraddistinto la nostra campagna elettorale. Rafforza la comunanza dei principi politici e si apre a quanti intendono condividerli quale primo e grande segnale di rinnovamento della comunità.